Nba Premief, New York Knicks, al via l'era post Melo Tanto tuono che piove. . Risolto il caso Anthony, tradato agli Oklahoma City Tundere in cambio di Enes Kanter, Doug Nkdermott ed una scelta di Chicago al secondo giro del draft 2018, i New York Knicks ora possono voltare pagina, puntando su un nucleon giovane, capeggiato dall'asso Letton e Kristaps Porzingis. . 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 È dotato di buon ball handling, qualità che quindi ne fanno un signor penetratore oltre ad avere nelle corde una buona predisposizione per gli assist. . Qualora migliorasse fisicamente, aggiungendo un po' di peso, massa muscolare nella parte superiore del corpo, può diventare un difensore anche parecchio versatile, capace di difendere in più posizioni, contro avversari ben strutturati. Nelle retrovie, il veterano Ramon Session 6 a Red Jack. Nello spot di guardia, ecco il superpagato Tim Ardavai Lunga R, giunto nella grande mela dopo aver firmato una offerce quadriennale da 71 milioni di dollari. Col suo arrivo, scivola in panchina Courtney Lee, il quale potrebbe rivelarsi un'arma importante dalla panchina per coach Ornacek seppur ha 32 anni la sua carriera sia in parabola discendente. . Ha chiamato ad apportare il suo mattoncino, il suo principale compito sarà quello di assicurare punti quando in campo sarà chiamata in causa la second unit. . Frank Tillichina Rocky e dei New York Knicks. . Da Chicago, nella trade che ha condotto Melo a Doc, è sbarcato Doc McDermott, un'ala piccola che fa del tiro dalla lunga distanza la sua arma migliore, ma il più delle volte il suo gioco risulta essere poco funzionale. . Terza squadra in quattro anni, il nativo di Grand Force proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista in una squadra tutta da scoprire. . Si alternerà con Michael Besley, per lui l'ennesima chance di dimostrare di valere un posto nella Lega. Lo scorso anno ha giocato per i Milbaoche e Bux, con i quali ha tenuto una media di 9.4 punti e 3.4 rimbalzi in soli 16.7 minuti di utilizzo a partita. . Ha tirato con il 53.2 del campo e con il 42 da dietro l'arco. Militanza nel Wisconsin sin chiaroscuro. . B e Asi può giocare sia da alla piccola che da alla grande ed è ambidestro. Se il suo immenso talento dovesse finalmente scoppiare, e diventare funzionale alla causa dei Knicks, per la franchigia arancio-blu potrebbero schiudersi interessanti porte, addirittura quelle che danno accesso alla post-season. . Resta da capire con quali motivazioni giunge a New York, essendo il classe 1989 un carattere fumantino, che tende ad inalberarsi troppo facilmente. . Il terzo incomodo nel ruolo di ala piccola titolare è il lituano Mindougas Kudzninskas, che si propone di gran carriera avendo chiuso la scorsa regular season con 15.1 punti di media a partita in circa 36 minuti d'impiego. . Tanti pezzi nuovi, ora resta da capire coach Jeff Hornacek se sia in grado di assemblarli al meglio oppure no. Molto della stagione dei New York Knicks passa proprio da questo. . Se all'interno della squadra le girarchie si cristallizzano, senza l'ombra di Phil Jackson e del suo triangolo offensivo ci sono tutti presupposti per migliorare il record dello scorso anno, 31 vittorie e 51 sconfitte. . Inoltre, se Porzingis riuscirà a reggere le pressioni del MSG, ed i vari Ardavai Lunga R e Kanter vivranno un buon approccio con la nuova realtà, è probabile che sui volti dei tifosi dei Knicks possano comparire addirittura dei sorrisi. . . Ognuno dovrà apportare il proprio mattoncino alla causa, e data la scarsità di risorse che presenta quest'anno la Eastern Conference, vedere gli arancioblu, ad aprile, in ottava posizione non è assolutamente un eufemismo. . Tutto, però, dovrà girare per il verso giusto, in maniera impeccabile. I rischi di vivere un'altra stagione nel limbo della Lega ci sono tutti. .